Siamo con Agostino Perrone, detto Costantino, è candidato al Consiglio Comunale di La Terza nonché al Consiglio Regionale Pugliese con Fratelli d'Italia. Una campagna elettorale molto intensa, tanti incontri con le categorie produttive ma anche con i cittadini giovani e meno giovani. Quali messaggi riceve, cosa le chiede la gente e cosa si sente di dire alle persone? La prima cosa la gente quando si avvicina dice Agostino vedi per mio figlio, Agostino vedi per mio nipote, Agostino purtroppo la gente è disperata perché non trovano lavoro. Io l'unica cosa che posso fare è creare dei posti di lavoro, come si creano questi posti di lavoro. Basta considerare le attività, le aziende artigianali perché questo è un paese di lavoratori ma abbiamo bisogno di rappresentanza politica. Io quando giro per le strade la gente che mi conosce anche perché da quasi 15 anni che faccio politica e sono stato sempre vicino alla gente e spero che arriva il momento che io faccio questo saldo in regione perché sanno che sono una persona che non dimentico dei cittadini e non dimentico delle imprese. Oggi ho fatto un giro nella zona PIP di La Terza che è una bella soddisfazione che mi stavano aspettando. Mi hanno fatto un'accoglienza tutti quelli che ho fatto visita oggi. Agostino ti aspettavamo, Agostino tu devi andare in regione, Agostino ci devi difendere, Agostino stiamo proprio ai piedi di Cristo. Quindi un atto proprio di stima, di fiducia, di affetto, la volontà di essere rappresentati da uno come lei che è uno di loro? Soprattutto questo mi hanno detto, solo tu ci puoi capire, tu sei un lavoratore come noi, come difendi la tua azienda, vogliamo che tu ci difendi la nostra. La maggior parte di queste attività mi accompagnavano fino alla macchina. Io ho fatto tante campagne elettorali ma questa volta io sento proprio l'odore della vittoria e del cambiamento del centro. La voglia di cambiare, di voltare pagina. Conosco tante persone che hanno sostenuto il centro-sinistra, delusi dalla gestione sia regionale che locale e proprio mi dicevano, tira Agostino, vai avanti Agostino. Ci vuole il cambiamento perché questi che stanno non hanno fatto vedere niente. Grazie.